Il dottore è partito e io davvero non so se la biografia di mio padre occorra. Se descrivessi troppo minuziosamente mio padre potrebbe risultare che per avere la mia guarigione sarebbe stato necessario di analizzare lui dapprima e se arriverebbe così ad una rinunzia. Procedo con coraggio perché so che se mio padre avesse avuto bisogno della stessa cura ciò sarebbe stato per tutt'altra malattia della mia. Ad ogni modo per non perdere tempo dirò di lui solo quanto possa giovare a ravvivare il ricordo di me stesso. 15.4.1890 ore 4 e un quarto Muore mio padre U.S. Per chi non sapesse quelle due ultime lettere non significano United States ma ultima sigaretta. È l'annotazione che trovo su un volume di filosofia positiva di Ostwald sul quale pieno di speranza passai varie ore e che mai intesi. Nessuno lo crederebbe ma adonta di quella forma quella notazione registra l'avvenimento più importante della mia vita. Mia madre era morta quando io non avevo ancora 15 anni. Feci delle poesie per onorarla, ciò che mai equivale a piangere. E nel dolore fui sempre accompagnato dal sentimento che da quel momento doveva iniziarsi per me una vita seria e di lavoro. Il lavoro stesso accennava ad una vita più intensa. Poi un sentimento religioso, tuttavia vivo, attenuò e addolcì la grave sciagura. Mia madre continuava a vivere, sebbene distante da me, e poteva anche compiacersi dei successi cui andavo preparandomi. Una bella comodità. Ricordo esattamente il mio stato di allora. Per la morte di mia madre e la salutare emozione che essa mi aveva procurata, tutto da me doveva migliorarsi. Invece, la morte di mio padre fu una vera, grande catastrofe. Il paradiso non esisteva più e io poi a 30 anni ero un uomo finito. Anch'io. Mi accorsi per la prima volta che la parte più importante e decisiva della mia vita giaceva dentro di me irrimediabilmente. Il mio dolore non era solo egoistico, come potrebbe sembrare da queste parole. Tutt'altro. Io piangevo lui e me. E me solo perché era morto lui. Fino ad allora io ero passato di sigaretta in sigaretta e da una facoltà universitaria all'altra, con una fiducia indistruttibile nelle mie capacità. Ma io credo che quella fiducia, che rendeva tanto dolce la mia vita, sarebbe continuata magari fino ad oggi, se mio padre non fosse morto. Lui morto non c'era più una di mane dove collocare il proposito. Tante volte, quando ci penso, resto stupito della stranezza per cui questa disperazione di me e del mio avvenire si sia prodotta alla morte di mio padre e non prima. Sono in complesso cose recenti e per ricordare il mio enorme dolore e ogni particolare della sventura non ho certo bisogno di sognare, come vogliono i signori dell'analisi. Ricordo tutto, ma non intendo niente. Fino ad allora, fino alla sua morte, io non vissi per mio padre. Non fece alcun sforzo per avvicinarmi a lui e quando si poteva farlo senza offenderlo, lo evitai. All'università tutti lo conoscevano col nomignolo che io gli diedi. Il vecchio Silva manda denari. Ci volle la malattia per legarmi a lui. La malattia che fu subito la morte, perché brevissima e perché il medico lo diede subito per spacciato. Quando ero a Trieste ci vedevamo, se no, per un'oretta al giorno, al massimo. Ma non fummo tanto e sia lungo insieme, come nel mio pianto. Magari l'avessi assistito meglio e pianto meno. Sarei stato meno malato. Era difficile di trovarsi insieme, anche perché fra me e lui intellettualmente non c'era nulla di comune. Guardandoci avevamo ambedue lo stesso sorriso di compatimento, reso in lui più acido da una viva paterna ansietà per il mio avvenire. In me invece tutto è indulgenza, sicuro com'ero che le sue debolezze ormai erano prive di conseguenza, tant'è vero che io le attribuivo in parte all'età. Egli fu il primo a diffidare della mia energia e a me sembra troppo presto. E però io sospetto che, pur senza l'appoggio di una convinzione scientifica, egli diffidasse di me anche perché ero stato fatto da lui ciò che serviva, e qui con fede scientifica sicura ad aumentare la mia diffidenza per lui. Egli godeva però della fama di commerciante abile, ma io sapevo che i suoi affari da lunghi anni erano diretti dagli olivi. Dell'incapacità al commercio vera una somiglianza fra di noi, ma non ve ne erano altre. Posso dire che fra noi due io rappresentavo la forza, e lui la debolezza. Già quello che ho registrato in questi fascicoli prova che in me c'è sempre stato, forse la mia massima sventura, un impetuoso conato al meglio. Tutti i miei sogni di equilibrio e di forza non possono essere definiti altrimenti. Mio padre non conosceva nulla di tutto ciò. Egli viveva perfettamente d'accordo sul modo come l'avevano fatto, ed io ritenevo che egli mai abbia compiuto degli sforzi per migliorarsi. Fumava il giorno intero, e dopo la morte di mamma, quando non dormiva anche di notte. Beveva anche discretamente, da gentleman, di sera a cena, tanto da essere sicuro di trovare il sonno pronto, non appena posata la testa sul guanciale. Ma secondo lui, il fumo e l'alcol erano dei buoni medicinali. In quanto concerne le donne, dai parenti appresi che mia madre aveva avuto qualche motivo di gelosia. Anzi, pare tiramite donna abbia dovuto intervenire talvolta violentemente per tenere a freno il marito. Egli si lasciava guidare, da lei chiamava e rispettava, ma pare che essa non sia mai riuscita ad avere da lui la confessione di alcun tradimento, per cui morì nella fede di essersi sbagliata. Eppure i buoni parenti raccontano che essa ha trovato il marito quasi inflagrante dalla propria sarta. Egli si scusò con un accesso di distrazione e con tanta costanza che fu creduto. Non vi fu altra conseguenza che quella che mia madre non andò più da quella sarta e mio padre neppure. Io credo che nei suoi panni io avrei finito col confessare, ma che poi non avrei saputo abbandonare la sarta, visto che io metto le radici dove mi soffermo. Mio padre sapeva difendere la sua quiete, davvero pater familias. Aveva questa quiete nella sua casa e nel suo animo. Non leggeva che libri insulsi e morali, non mica per ipocrisia, ma per la sua sincera convinzione. Penso che egli sentisse vivamente la verità di quelle prediche morali e che la sua coscienza fosse quietata dalla sua adesione sincera alla virtù. Adesso che invecchio e vicino al tipo del patriarca, anch'io sento che un'immoralità predicata è più punibile di un'azione immorale. Si arriva all'assassinio per amore o per odio, alla propaganda dell'assassinio solo per malvagità. Avevamo tanto poco di comune fra di noi che egli mi confessò che una delle persone che più li inquietavano a questo mondo ero io. Il mio desiderio di salute mi aveva spinto a studiare il corpo umano. Egli invece aveva saputo eliminare dal suo ricordo ogni idea di quella spaventosa macchina. Per lui il cuore non pulsava né non aveva bisogno di ricordare valvole e vene e ricambio per spiegare che il suo organismo viveva. Niente movimento perché l'esperienza diceva che quando si muoveva finiva con l'arrestarsi. Anche la terra era per lui immobile e solidamente piantata su dei cardini. Naturalmente non lo disse mai ma soffriva se gli si diceva qualche cosa che a tale concezione non si conformasse. Mi interruppe con disgusto un giorno che gli parlai degli antipodi. Il pensiero della gente con la testa all'ingiù gli sconvolgeva lo stomaco. Egli mi rimproverava due altre cose la mia distrazione e la mia tendenza a ridere delle cose più serie. In fatto di distrazione egli differiva da me per un certo suo libretto su cui notava tutto quello che gli voleva ricordare e che rivedeva più volte al giorno. Credeva così di aver vinta la sua battaglia e non ne soffriva più. Impose quel libretto anche a me ma io non vi registrai che qualche ultima sigaretta. In quanto al mio disprezzo per le cose serie io credo che gli avesse il difetto di considerare come serie troppe cose di questo mondo. Ecco in un esempio quando dopo essere passato dagli studi di legge e quelli di chimica io ritornai col suo permesso ai primi egli mi disse bonariamente Resta però assolato che tu sei un pazzo. Io non me ne offesi affatto e gli fui tanto grato della sua condiscendenza che vogli premiarlo facendolo ridere. Andai dal dottor Canestrini a farmi esaminare per averne un certificato. La cosa non fu facile perché dovetti sottomettermi perciò a lunghe e minuziose disamine. Ottenutolo portai trionfalmente quel certificato a mio padre ma egli non seppe riderne. Con accento accorato e con le lacrime agli occhi esclamò Ah! Tu sei veramente pazzo! E questo fu il premio della mia faticosa e innocua commediola. Non me la perdonò mai e perciò mai ne rise. Farsi visitare da un medico per ischerzo far redigere per ischerzo un certificato munito di bolli. Cose da pazzi! Insomma, io accanto a lui rappresentavo la forza e talvolta penso che la scomparsa di quella debolezza che mi elevava fu sentita da me come una diminuzione. Ricordo come la sua debolezza fu provata dallorché quella canaglia dell'olivi lo indusse a fare testamento. all'olivi premeva quel testamento che doveva mettere i miei affari sotto la sua tutela e pare abbia lavorato a lungo il vecchio per indurlo a quell'opera tanto penosa. Finalmente mio padre vi si decise ma la sua larga faccia serena si oscurò. Pensava costantemente alla morte come se con quell'atto avesse avuto un contatto con essa. Una sera mi domandò tu credi che quando si è morti tutto cessi? Al mistero della morte io ci penso ogni giorno ma non ero ancora in grado di dargli le informazioni che gli domandava per fargli piacere inventai la fede più lieta nel nostro futuro. Io credo che sopravviva il piacere perché il dolore non è più necessario la dissoluzione potrebbe ricordare il piacere sessuale certo sarà accompagnata dal senso della felicità e del riposo visto che la ricomposizione è tanto faticosa la dissoluzione dovrebbe essere il premio della vita. Fece un bel fiasco si era ancora a tavola dopo cena egli senza rispondere si levò dalla sedia vuotò ancora il suo bicchiere e disse non è questa l'ora di filosofare specialmente con te e uscì dispiacente lo seguì e pensai di restare con lui per distoglierlo dai tristi pensieri ma allontanò dicendomi che gli ricordavo la morte e i suoi piaceri non sapeva dimenticare il testamento finché non me ne aveva dato a comunicazione se ne ricordava ogni qual volta mi vedeva una sera scoppiò devo dirti che ho fatto testamento io per stornarlo dal suo incubo vinsi subito la sorpresa che mi produsse la sua comunicazione e gli dissi io non avrò mai questo disturbo perché spero che prima di me muoiano tutti i miei eredi e gli subito si inquietò del mio riso su una cosa tanto seria e ritrovò tutto il suo desiderio di punirmi così gli fu facile di raccontarmi il bel tiro che mi aveva fatto mettendomi sotto la tutela dell'olivi devo dirlo io mi mostrai un buon ragazzo rinunzai a fare un'obiezione qualunque pur di strapparlo a quel pensiero che lo faceva soffrire dichiarai che qualunque fosse stata la sua ultima volontà io mi vi sarei adattato forse aggiunsi io saprò comportarmi in modo che tu ti troverai indotto a cambiare le tue ultime volontà ciò gli piacque anche perché vedeva che io gli attribuivo una vita lunga anzi lunghissima tuttavia volle da me addirittura un giuramento che se egli non avesse disposto altrimenti io non avrei mai tentato di sminuire le facoltà dell'olivi io giurai visto che egli non volle contentarsi della mia parola d'onore fui tanto mite allora che quando sono torturato dal rimorso di non averlo amato abbastanza prima che morisse rievoco sempre quella scena per essere sincero devo dire che la rassegnazione alle sue disposizioni mi fu facile perché in quell'epoca l'idea di essere costretto a non lavorare mi era piuttosto simpatica circa un anno prima della sua morte io seppi una volta intervenire abbastanza energicamente a vantaggio della sua salute mi aveva confidato di sentirsi male e io lo costrinse ad andare da un medico dal quale anche lo accompagnai costui prescrisse qualche medicinale e ci disse di ritornare da lui qualche settimana dopo ma mio padre non volle dichiarando che odiava i medici quanto i becchini e non prese neppure la medicina prescrittagli perché anch'essa gli ricordava medici e becchini restò per un paio d'ore senza fumare e per un solo pasto senza vino si sentì molto bene quando poté congedarsi dalla cura e io vedendolo più lieto non ci pensai più poi lo vidi talvolta triste ma mi sarei meravigliato di vederlo lieto solo e vecchio com'era una sera alla fine di marzo arrivai un po' più tardi del solito a casa niente di male ero caduto nelle mani di un dotto amico che aveva voluto confidarmi certe sue idee sulle origini del cristianesimo era la prima volta che si voleva da me che pensassi a quelle origini eppure mi adattai alla lunga lezione per compiacere l'amico mi offiginava e faceva freddo tutto era sgradevole e fosco compresi i greci e gli ebrei di cui il mio amico parlava ma pure mi adattai a quella sofferenza per ben due ore la mia solita debolezza scommetto che oggi ancora sono tanto capace di resistenza che se qualcuno ci si mettesse sul serio potrebbe indurmi a studiare per qualche tempo l'astronomia entrai nel giardino che circonda la nostra villa a questa ci accedeva per una breve strada carrozzabile Maria la nostra cameriera mi aspettava alla finestra e sentendomi avvicinare gridò nell'oscurità e lei il signor Zeno Maria era una di quelle fantesche come non se ne trovano più era da noi da una quindicina d'anni metteva mensilmente alla cassa di risparmio una parte della sua paga per i suoi vecchi anni risparmi che però non le servirono perché essa morì in casa nostra poco dopo il mio matrimonio sempre lavorando essa mi raccontò che mio padre era ritornato a casa da qualche ora ma che aveva voluto attendermi a cena allorché essa aveva insistito perché egli intanto mangiasse era stata mandata via con modi poco gentili poi egli aveva domandato di me parecchie volte inquieto e ansioso Maria mi fece intendere che pensava che mio padre non si sentisse bene e attribuiva una difficoltà di parola al respiro mozzo devo dire che essendo sempre sola con lui essa spesso si era fitto in testa il pensiero che gli fosse malato aveva poche cose da osservare la povera donna nella casa solitaria e dopo l'esperienza fatta con mia madre essa si aspettava che tutti avessero da morire prima di lei forse alla camera da pranzo con una certa curiosità e non ancora impensierito mio padre si levò subito dal sofà su cui giaceva e mi accolse con una grande gioia che non seppe commuovermi perché vi scorsi prima di tutto l'espressione di un rimprovero ma intanto bastò a tranquillarmi perché la gioia mi parve un segno di salute non scorsi in lui trazza di quel balbettamento e il respiro mozzo di cui aveva parlato Maria ma invece di rimproverarmi egli si scusò d'essere stato caparvio che vuoi farci mi disse monariamente siamo noi due soli a questo mondo e volevo vederti prima di colicarmi magari mi fossi comportato con semplicità e avessi preso fra le mie brazza il mio caro babbo divenuto per malattia tanto mite e affettuoso invece cominciai a fare freddamente una diagnosi il vecchio Silva si era tanto mitigato che fosse malato lo guardai sospettosamente e non trovai di meglio che di fargli un rimprovero ma perché hai atteso finora per mangiare potevi mangiare e poi attendermi e gli rise assai giovialmente si mangia meglio in due poteva questa lietezza essere anche il segno di un buon appetito io mi tranquillai e mi mise a mangiare con le sue ciabatte di casa con passo malfermo egli si accostò al desco e occupò il suo solito posto poi sedette a guardarmi come mangiavo mentre lui dopo un paio di cucchiaiate scarse non prese altro cibo e allontanò anche da sé il piatto che gli ripugnava ma il sorriso persisteva sulla vecchia faccia soltanto mi ricordo come se si trattasse di cosa avvenuta ieri che un paio di volte che io lo guardai negli occhi egli stornò il suo sguardo dal mio si dice che ciò è un segno di falsità mentre io ora so che è un segno di malattia l'animale malato non lascia guardare nei pertugi nei quali si potrebbe scorgere la malattia la debolezza egli aspettava sempre di sentire come io avessi impiegato quelle tante ore in cui egli mi aveva atteso e vedendo che ci teneva tanto ci sai per un istante di mangiare e gli dissi secco secco che io fino a quell'ora avevo discusse le origini del cristianesimo mi guardò dubbioso e perplesso anche tu ora pensi alla religione? era evidente che gli avrai dato una grande consolazione se avessi accettato di pensarci con lui invece io che finché mio padre era vivo mi sentivo combattivo e poi non più risposi con una di quelle solite frasi che si sentono tutti i giorni nei caffè situati presso le università per me la religione non è altro che un fenomeno qualunque che bisogna studiare fenomeno fece lui sconcertato cercò una pronta risposta e aperse la bocca per darla poi esitò e guardò il secondo piatto che giusto allora Maria gli offerse e che egli non toccò quindi per tapparsi meglio la bocca gli ficcò un mozzicone di sigaro che accese e che lasciò subito spegnere sarà così concessa una sosta per riflettere tranquillamente per un istante mi guardò risoluto tu non vorrai ridere della religione io da quel perfetto studente scioperato che sono sempre stato con la bocca piena risposi ma chi è ridere io studio egli tacque e guardò lungamente il mozzicone di sigaro che aveva deposto su un piatto capisco ora tutto quello che passò per quella mente già torbida e sono sorpreso di non averne capito nulla allora credo che allora nel mio animo mancasse l'affetto che fa intendere tante cose poi mi fu tanto facile egli evitava di affrontare il mio scetticismo una lotta troppo difficile per lui in quel momento ma riteneva di poter attaccarlo mitemente di fianco come conveniva ad un malato ricordo che quando parlò il suo respiro mozzava e ritardava la sua parola era una grande fatica prepararsi ad un combattimento ma pensavo che gli non si sarebbe rassegnato di colicarsi senza darmi il fatto mio e mi preparai a discussioni che poi non vennero io disse sempre guardando il suo mozzicone di sigaro ormai spento sento che la mia esperienza e la scienza della mia vita sono grandi non si vivono inutilmente tanti anni io so molte cose e purtroppo non so insegnartele tutte come vorrei oh quanto vorrei vedo dentro nelle cose e anche vedo quello che è giusto e vero e anche quello che non lo è non c'era da discutere borbottai poco convinto e sempre mangiando sì papà non volevo offenderlo peccato che sei venuto tanto tardi prima ero meno stanco avrei saputo dirti molte cose pensai che volessi ancora seccarmi perché ero venuto tardi e gli proposi di lasciare quella discussione per il giorno dopo non si tratta di una discussione rispose egli trassognato ma di tutt'altra cosa una cosa che non si può discutere e che saprai anche tu non appena te l'avrò detta ma il difficile è dirla qui ebbi un dubbio non ti senti bene non posso dire di star male ma sono molto stanco e vado subito a dormire suonò il campanello e nello stesso tempo chiamò Maria con la voce quando essa venne egli domandò se nella sua stanza tutto era pronto s'avviò poi subito strisciando le ciabatte al suolo giunto accanto a me chinò la testa per offrirmi la sua guancia al bacio di ogni sera vedendolo muoversi così mal sicuro ebbi di nuovo il dubbio che stesse male e glielo domandai ripetemmo ambedue più volte le stesse parole ed egli mi confermò che era stanco ma non malato poi soggiunse adesso penserò alle parole che ti dirò domani vedrai come ti convinceranno papà dichiarai io commosso ti sentirò volentieri vedendomi tanto disposto a sottomettermi alla sua esperienza egli esitò di lasciarmi bisognava pure approfittare di un momento tanto favorevole si passò la mano sulla fronte e sedette sulla sedia sulla quale sarei appoggiato per portermi la sua guancia al bacio ansava leggermente curioso disse non so dirti nulla proprio nulla guardò intorno a sé come se avesse cercato di fuori quello che nel suo interno non arrivava ad afferrare eppure so tante cose anzi tutte le cose io so deve essere l'effetto della mia grande esperienza non soffriva tanto di non sapere esprimersi perché sorrise alla propria forza alla propria grandezza io non so perché non abbia chiamato subito il dottore invece devo confessarlo con dolore e rimorso considerai le parole di mio padre come dettate da una presunzione che io credevo di avere più volte contestata in lui non poteva però sfuggirmi l'evidenza della sua debolezza e solo perciò non discussi mi piaceva di vederlo felice nella sua illusione di essere tanto forte quando era invece debolissimo ero poi lusingato dell'affetto che mi dimostrava manifestando il desiderio di consegnarmi la scienza di cui si credeva possessore per quanto fossi convinto di non poter apprendere niente da lui e per lusingarlo e dargli pace gli raccontai che non doveva sforzarsi per trovare subito le parole che gli mancavano perché in frangenti simili i più alti scienziati mettevano le cose troppo complicate in un deposito in qualche cantuccio del cervello perché si semplificassero da sé e gli rispose quello che io cerco non è complicato affatto si tratta anzi di trovare una parola una sola e la troverò ma non questa notte perché farò tutto un sonno senza il più piccolo pensiero tuttavia non si levò dalla sedia esitante scrutando per un istante il mio viso mi disse ho paura che non saprò dire a te quello che penso solo perché tu hai l'abitudine di ridere di tutto mi sorrise come se avesse voluto pregarmi di non risentirmi per le sue parole si alzò dalla sedia e mi offerse per la seconda volta la sua guancia io rinunziai a discutere e convincerlo che a questo mondo verano molte cose di cui si poteva e doveva ridere e voglio rassicurarlo con un forte abbraccio il mio gesto fu forse troppo forte perché egli si svincolò da me più affannato di prima ma certo fu da lui inteso il mio affetto perché mi salutò amichevolmente con la mano andiamo a letto disse con gioia e uscì seguito da Maria il dottore non si mostrava mai deluso dello stato in cui si trovava il malato ogni giorno constatava un miglioramento ma vedeva imminente la catastrofe un giorno venne in vettura ed ebbe fretta di andarsene mi raccomandò di indurre l'ammalato a restare coricato il più a lungo che fosse possibile perché la posizione orizzontale era la migliore per la circolazione ne fece raccomandazione anche a mio padre stesso il quale intese e con aspetto intelligentissimo promise restando però in piedi in mezzo alla stanza e ritornando subito alla sua distrazione o meglio a quello che io dicevo la meditazione sul suo affanno durante la notte che seguì ebbe per l'ultima volta il terrore di veder risorgere quella coscienza che io tanto temevo egli sarà seduto sulla poltrona accanto alla finestra e guardava attraverso i vetri nella chiara notte il cielo tutto stellato la sua respirazione era sempre affannosa ma non sembrava che egli ne soffrisse assorto com'era a guardare in alto forse a causa della respirazione pareva che la sua testa facesse dei cenni di consenso pensai con spavento ecco che egli si dedica ai problemi che sempre evitò cercai di scoprire il punto esatto del cielo che gli fissava e gli guardava sempre retto sul busto con lo sforzo di chi spia attraverso un pertugio situato troppo in alto mi parve guardasse le pleiadi forse in tutta la sua vita egli non aveva guardato sia lungo tanto lontano improvvisamente si rivolse a me sempre restando eretto sul busto guarda guarda mi disse con un aspetto severo di ammunizione tornò subito a fissare il cielo e indissivolse di nuovo a me hai visto hai visto tentò di ritornare alle stelle ma non pote si abbandonò esausto sullo schienale della poltrona e quando io gli domandai che cosa avesse voluto mostrarmi egli non mi intese ne ricordò di aver visto e di aver voluto che io vedessi la parola che aveva tanto cercato per consegnarmela gli era sfuggita per sempre la notte fu lunga ma debbo confessarlo non specialmente affaticante per me e per l'infermiere lasciavamo fare all'ammalato tutto quello che voleva ed egli camminava per la stanza nel suo strano costume inconsapevole del tutto di attendere la morte una volta tentò di uscire sul corridoio dove faceva tanto freddo io glielo impedì ed egli mi obbedì subito un'altra volta invece l'infermiere che aveva sentita la raccomandazione del medico volle impedirgli di levarsi dal letto ma allora mio padre si ribellò uscì dal suo stupore si levò piangendo e bestemmiando ed io tenni gli fosse lasciata la libertà di muoversi come egli voleva egli si quietò subito e ritornò alla sua vita silenziosa e alla sua corsa vana in cerca di sollievo quando il medico ritornò egli si lasciò esaminare tentando persino di respirare più profondamente come gli si domandava poi si rivolse a me che cosa dice mi abbandonò per un istante ma ritornò subito da me quando potrò uscire il dottore incoraggiato da tanta amitezza mi esortò a dirgli che si sforzasse di restare più a lungo nel letto mio padre ascoltava solo le voci a cui era più abituato la mia e quelle di Maria e dell'infermiere non credevo all'efficacia di quelle raccomandazioni ma tuttavia le feci mettendo nella mia voce anche un tono di minaccia sì sì promisse mio padre e in quello stesso istante si levò e andò alla poltrona il medico lo guardò e rassegnato mormorò si vede che un mutamento di posizione gli dà un po' di sollievo poco dopo ero a letto ma non seppi chiudere occhio guardavo nell'avvenire indagando per trovare perché e per chi avrei potuto continuare i miei sforzi di migliorarmi piansi molto ma piuttosto su me stesso che sul disgraziato che correva senza pace per la sua camera quando mi levai Maria andò a coricarsi ed io restai accanto a mio padre insieme all'infermiere ero abbattuto e stanco mio padre più irrequieto che mai fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai che gettò lontano lontano la sua ombra che offuscò ogni mio coraggio ogni mia gioia per dimenticare il dolore fu dopo che ogni mio sentimento fosse affievolito dagli anni l'infermiere mi disse come sarebbe bene se riuscissimo a tenerlo a letto il dottore vi dà tanta importanza fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà mi levai e andai a letto dove in quel momento ansante più che mai l'ammanato si era colicato ero deciso avrai costretto mio padre di restare almeno per mezz'ora nel riposo voluto dal medico non era questo il mio dovere subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi con mano vigorosa appoggiata sulla spalla gli elimpedì mentre ad alta voce e imperiosa gli comandavo di non muoversi per un istante terrorizzato e gli obbedì poi esclamò muoio e scivizzò a mia volta subito spaventato dal suo grido rallentai la pressione della mia mano perciò egli potesse sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi sebbene per un momento solo impedito nei movimenti e gli parve certo che io gli togliessi anche l'aria di cui aveva tanto bisogno come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi alzò la mano alto alto come se avesse saputo che egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia poi scivolò sul letto e di là sul pavimento morto non lo sapevo morto ma mi si contrasta il cuore dal dolore della punizione che egli moribondo aveva voluto darmi con l'aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto piangendo proprio come un bambino punito gli gridai nell'orecchio non è colpa mia fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato era una bugia poi ancora come un bambino aggiunsi la promessa di non farlo più ti lascerò muovere come vorrai l'infermiere mi disse è morto dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza egli era morto e io non potevo provargli la mia innocenza nella solitudine tentai di riavermi ragionavo era escluso che mio padre che era sempre fuori di sensi avesse potuto risolvere di punirmi e di dirigere la sua mano con tanta esattezza per colpire la mia guancia come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto pensai perfino di dirigermi da Koprosic egli quale medico avrebbe potuto dirmi qualche cosa sulle capacità di risolvere e agire di un moribondo potevo anche essere stato vittima di un atto provocato da un tentativo di facilitarsi la respirazione ma col dottor Koprosic non parlai era impossibile di andare a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da me a lui che mi aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio padre fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo l'infermiere in cucina di sera raccontava a Maria il padre alzò alto alto la mano e con l'ultimo suo atto picchiò il figliuolo egli lo sapeva e perciò Koprosic l'avrebbe risaputo quando mi recai nella stanza mortuaria trovai che avevano vestito il cadavere l'infermiere doveva anche avergli ravvivata la bella bianca chioma la morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e minaccioso le sue mani grandi potenti ben formate erano livide ma giacevano con tanta naturalezza che parevano pronte ad afferrare e punire non vogli non seppi più rivederlo poi al funerale riuscii a ricordare mio padre debole e buono come l'avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia e mi convinci che quello schiaffo che mi era stato inflitto da lui moribondo non era stato da lui voluto divenne buono buono e il ricordo di mio padre si accompagnò a me divenendo sempre più dolce fu come un sogno delizioso eravamo ormai perfettamente d'accordo io ho divenuto il più debole e lui il più forte ritornai e per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia immaginavo che mio padre mi sentisse e potessi dirgli che la colpa non era stata mia ma del dottore la bugia non aveva importanza perché egli oramai intendeva tutto e io pure e per parecchio tempo i colloqui con mio padre continuarono dolci e celati come un amore illecito perché io dinanzi a tutti continuai a ridere di ogni pratica religiosa mentre è vero e qui voglio confessarlo che io a qualcuno giornalmente e ferventemente raccomandai l'anima di mio padre è proprio la religione vera quella che non occorre professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche volta raramente non si può fare a meno di più l'anima è un'altra voce di più di più di più